Quando sei fermo, usa il tasto di controllo della testa per osservare l'ambiente. Bene. Usa la mano nuda per camminare tra questi portatori di giare senza causare il versamento del loro contenuto. Procedi verso l'indicatore per continuare il processo di sincronizzazione. Grazie a tutti. 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 Proseguiamo con una dimostrazione di mimetismo. Questo si può attivare con l'uso passivo delle gambe. Puoi fingerti un monaco per passare vicino ai soldati senza destare sospetti. Usa questo metodo per raggiungere l'indicatore dietro ai soldati. Passa, sì, pagano! Sì, pagano! Non aveva il tontenato a capire le intenzioni di chi gli stava intorno. Ben fatto! Ricorda, potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in tre principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Secondo, essere sempre discreti. Terzo, non compromettere la confraternita. Se dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato. Oppure, osservando il credo. Hai superato il corso di istruzione. Ora verrà caricato il blocco di memoria più stabile. Sì, non è verrà caricato il blocco di memoria più stabile.